E adesso la nomination del vincitore della quarta edizione, Giovanni Artegiani! Bravo Giovanni! Claudio Staglioni ti contegna i tuoi premi perché c'è il premio onorario tuo e poi quello proprio simbolico, l'augurio che tutti noi ti facciamo per fare il tuo primo disco. E poi c'è la produzione della Don Luca Sound, Vicky! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.